Iscriviti al canale e attiva la campanella per restare sempre aggiornato. Le parole di Antonella Arromita, ieri ha pianto per un po'. Vuoi sapere perché ha pianto? Appena ha visto che mi sono un po' ripresa e un po' ballavo, appena lo ha visto si è messo a piangere. Capito come fa? Quando io sto male che piango tutti i giorni se ne sbatte il cavolo e nemmeno si avvicina. Ma ti rendi conto che questo è impazzito veramente, o non ci rendiamo conto? Pensa te, da cane mio è diventato cane loro, che bello! Il nostro rapporto era molto equilibrato ultimamente, e nessuno era cane di nessuno, era come una bilancia, tutto equilibrato. E voi cosa ne pensate delle parole di Antonella?